Siate perseveranti nella preghiera. 16 dicembre 1971. Figli miei. Che riuniti nel mio nome e per mio amore volete far conoscere agli altri la potenza della preghiera. Siate benedetti. Io vi ho dato l'esempio di una preghiera continua e tutti coloro che hanno voluto e vogliono seguire le mie orme. Devono congiungere le mani o alzarle verso il cielo in atto di adorazione o di supplica. Il padre si commuove davanti alla preghiera dei figli buoni ed anche a quella dei figli ingrati e infedeli, poiché se questi pregano ritrovano presto la via del bene e riacquistano la grazia. La più potente leva che sostiene il mondo è la preghiera compiuta in grazia di Dio, poiché in essa la voce dell'uomo si confonde con la mia di uomo Dio. È la preghiera che trattiene la mano di Dio che vorrebbe colpire per richiamare al bene. È solo per essa che la giustizia si tramuta in misericordia. La preghiera deve essere costante e deve essere fatta con la convinzione che coloro a cui vi rivolgete non sono lontani da voi. Che al contrario voi siete alla loro presenza ed essi vi ascoltano e raccolgono i desideri e le ispirazioni che voi presentate. Se qualche volta non siete esauditi è perché, passate come al vaglio le vostre richieste. Il Signore ritiene che ciò che voi chiedete non è vantaggioso per voi. Ora vi dirò qualcosa che vi sia di sprone ad impiegare il vostro tempo migliore nell'occuparvi di Dio e da trattenervi in cordiale colloquio con Lui. I vostri progenitori nel Paradiso Terrestre erano amici di Dio. Con Lui si trattenevano e l'amore riempiva il loro cuore. Amavano Dio e si amavano tra loro in un modo spirituale e divino. Quando però in un momento di superbia essi scelsero di parlare col serpente, venne meno in essi l'amore di Dio e quello vicendevole. Desiderarono di essere come Dio e anzi di superarlo e si vollero l'un l'altro partecipi dello stesso male e della stessa condanna. Figli. La preghiera è una cosa tanto semplice. Ma altrettanto potente e grande. Essa è strumento di vita. La sua assenza conduce alla morte. Chi prega vive in Dio perché Dio non abbandona i suoi figli. Chi non prega si toglie da sé medesimo la vita, poiché come il ramo attaccato all'albero ne riceve la linfa e staccato muore. Così l'anima che vive di Dio non può sostenersi se da Dio si stacca. Non ricorrendo a lui. Vi ho detto che la preghiera deve essere costante. Quando vogli che i miei discepoli capissero la grandezza di Giovanni chiesi ad essi? Chi siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Giovanni era nel deserto per pregare e far penitenza e la sua forza e la sua costanza erano l'ammirazione di tutti. Anche voi siete chiamati qui a pregare e per molti di voi è un vero sacrificio. Ebbene, vi dico. Non siate come canne sbattute dal vento. Siate perseveranti. Se le necessità familiari o d'ufficio non vi permettono di essere presenti qui, fate centro da un'altra parte, fosse anche in casa vostra. Ma non venga mai meno in voi quella forza e quella costanza che vi rendono, come Giovanni, capaci di parlare a tutti con il vostro esempio. Ancora dicevo ai miei discepoli. Chi siete andati a vedere? Forse un uomo vestito di molli vesti? Anche di voi devo poter dire che non cercate nell'abbigliamento, nel vestito o nelle cose materiali la vostra consolazione. Se è normale che ognuno vesta secondo la propria condizione, è pur necessaria la pratica di quella sobrietà e quella penitenza che è parte indispensabile nella vita del cristiano. Figli, non dimenticate che, la vita vale più degli alimenti e il corpo più del vestito. Vorrei mettere nella vostra vita quell'equilibrio e quella saggezza che sono indici di perfezione, di moderazione e di grazia. Se praticare la penitenza e pregare assiduamente vi avvicina maggiormente a Dio, così da rendervi grandi e potenti presso di Lui già in questo mondo. Sappiate che molto più efficace sarà la vostra preghiera e la vostra potenza nel cielo, dove il Signore vi accoglierà alla fine della vostra vita. La preghiera vi dà forza e la penitenza vi rende simili al vostro Gesù, che in questo momento vi benedice e vi accoglie nel suo cuore per non lasciarvi mai più. Vi benedico, figli miei, e vi amo.